siamo giunti alla trentesima edizione della strasti come vi sentite la prima volta che correte oppure è la terza e penso che sia anche l'ultima preparato se avete fatto riscaldamento due sigarette pantaloni lunghi sono a postissimo io ho preparato il fisico da pasta asciutta ciò veramente preparazione atletica fenomenale siamo ormai si è sentito il primo sparo di prova partito probabilmente per avvertire che sta iniziando lei è già caldo per correre io no ma al cane si quanto c'è la fiera europea recuperiamogli alla fiera europea un po meglio del tapirula si esatto infatti c'è uno stimolo infatti dopo la corsa la buffata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.